Un nuovo collaboratore di giustizia, Simone Canale, chiama in causa la cosca Alvaro dell'Andrangheta per l'assassinio del 1982 a Palermo del generale Carlo Alberto Dallachiesa e della moglie Emanuela Setti Carraro. Canale ha rivelato al PM della DDA di Reggio Calabria, Giulia Pantano, di aver appreso in carcere che sarebbe stato il boss Nicolo Alvaro a sparare con un ammetragliatore contro l'auto su cui viaggiavano il prefetto Dallachiesa e la moglie. Il nome di Alvaro venne fuori nell'immediatezza delle indagini, il boss vu poi prosciolto e per l'assassinio del prefetto furono condannati Benedetto Nitto, Santa Paola e i componenti della cupola palermitana. Simone Canale ha anche rivelato numerosi particolari sulle attività criminali degli Alvaro e sulla loro alleanza, in particolare con i piromalli, indicandoli anche come responsabili dell'uccisione del boss di Gioia Tauro Roccomolè. Le dichiarazioni di Canale sull'omicidio di Dallachiesa e della moglie sono state trasmesse alla DDA di Palermo.